MIGUIT RAIN We have taken objective Charlie Siamo attenti, c'è un soldato! VEDO UNO DEI LORO SOLDATI! Ehi, subito a porto! Ho bisogno di altri proiettili! Medico nemico individuato! MIGUIT RAIN We have lost objective Duff What the cazzo! Massive notizie! Abbiamo perso un obiettivo! Contacto visito con un soldato nemico! Objective Apples Abbiamo un obiettivo! Presidiamolo! Ehi, la c'è un soldato! Oh no! Oh no! Oh no! Ok! Ah! Un soldato nemico! Là! We have lost Objective Charlie. We have taken Objective Freddy. We have taken Objective Butter. We have taken Objective Charlie. 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 We have taken basketballan. Notあそども Hurtado 1. No difference. You can find Abyss War反ever! It's the enemyDB Realm modes. We have taken Objective Charlie. We have steroid hatches. What happens? It's the gym. We are losing Objective Charlie An enemy dreadnought has arrived We have lost Objective Charlie They have taken the bullet So it doesn't go guys We are going! It's gas! It's gas! There's an assaltator! No, no, no! No, no, no! Visto! Un assaltatore! Visto! Un assaltatore! 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 We have lost Objective Charlie 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 We have lost Objective Charlie